Sarà presentato domani alle ore 18 a Santa Maria e i Crociferi a Palermo il suo settimo libro dal titolo Nella Tana del Riccio. È un libro dove si parla di paranormale ma si parla anche di Palermo. Sì, è la prima volta che mi sperimento questo genere sul paranormale perché sono convinta che comunque il paranormale entra nella vita di moltissime persone più di quanto ci si aspetti. Ho raccolto delle testimonianze, ho studiato a fondo il fenomeno e ho capito che dovevo scrivere qualcosa anche su questo. In precedenza mi sono occupata soprattutto della Sicilia, della storia della Sicilia, quella vera, non quella scritta sui libri di storia che è quella storia scritta dai vincitori. Ma ho voluto sperimentare questo nuovo genere e devo dire che mi sono venuto fuori più di 340 pagine dove veramente la suspense, l'adrenalina percorre tutte le pagine per portarci infine ad un finale del tutto inaspettato. È un thriller dove i protagonisti sono tre donne. Sì, sono tre donne che vivono in epoche e contesti ambientali molto diversi ma sempre nella città di Palermo che fa da sfondo con le sue meravigliose architetture, con il suo cibo di strada, insomma con tutte le bellezze che ci sono note. Però queste tre donne, due vivono in contemporanea quasi, ma l'altra che è vissuta nel periodo della Belle Epoque fa una fine orribile in quanto sarà un omicida suicida lei stessa e tornerà dall'aldilà per regolare i conti, si imbatterà in questo suo percorso di riscatto e di vendetta in queste due donne che sono Rita e Nilla. Lei invece si chiama Maria Luisa, insomma un intreccio tutto al femminile dove però emergono anche importanti figure maschili come Rodolfo o il barone La Gattuta che ne combinerà di tutti i colori. Vedrete che praticamente quest'uomo che è un tomber de femme seminerà la sua progenia un po' dappertutto e questo sarà il collante che unisce la storia di queste donne.